Abbiamo vissuto l'inferno! Abbiamo trascorso quattro anni! Quattro anni! A combattere quel virus e poi altri quattro a combattere tra noi! Il caos! Ma voi, tutti voi sapete cosa combattiamo! Devo parlare con Cesare! E dovete sapere che non è una questione di potere, ma di darci la speranza di ricostruire e recuperare il mondo perduto! Grazie per la visione!